Un efficientamento dei costi nel rispetto dei bilanci assegnati senza intaccare la qualità dei servizi offerti. Quella che può sembrare una contraddizione di termini è in realtà la strada che la regione Abruzzo intende seguire per rendere la sanità più moderna ed efficace. Un modello virtuoso che è stato riaffermato come impegno comune nell'incontro di giovedì pomeriggio a Pescara a cui hanno preso parte un po' tutti i vertici della sanità abruzzese e il presidente Marsilio che ascoltiamo. Quali possono essere le priorità in questo momento? Liste d'attesa, intramenia? Il tema delle liste d'attesa è un tema che colpisce tutta l'Italia. Chi segue le cronache nazionali sa quale sia la condizione generale. Dopo la pandemia, col fatto che si è dovuto recuperare un anno, un anno e mezzo in cui molte prestazioni erano sospese, bloccate e molte sono state rinviate anche per la paura degli stessi pazienti di entrare dentro degli ambienti sanitari per paura dell'infezione e così via. Ha prodotto negli anni successivi un incremento esponenziale di richiesta. Il governo nazionale sta prendendo di petto questa situazione. La prossima settimana è annunciato un decreto legge che già è stato distribuito in bozza alle regioni che stiamo esaminando proprio per dare strumenti in più alle regioni per poter affrontare il tema delle liste d'attesa. Noi abbiamo recuperato 20 milioni grazie alle economie di spesa facendo le gare centralizzate con la nostra agenzia della committenza e già in questo primo semestre sono stati messi all'opera questi fondi proprio per acquistare ulteriori prestazioni e fare in modo che si possano smaltire più velocemente le liste d'attesa. Abbiamo dato delle indicazioni operative di fare le diagnosi, gli esami anche fino alle 22 per sei giorni alla settimana, da lunedì al sabato compreso. Adesso naturalmente tocca alle direzioni e ai dirigenti delle ASL applicare questi indirizzi che la giunta regionale ha fornito. A proposito dei indirizzi i manager delle quattro ASL saranno anche loro messi tra virgolette sotto esame? Veramente tutti sono sempre sotto esame, sono sempre chiamati in ogni anno e in ogni stagione ad essere all'altezza del loro compito, quindi non c'è nulla di nuovo né di straordinario né di particolare in questa condizione, quindi lavorano, lavorano bene, lasciamoli lavorare serenamente senza alimentare cacce alle streghe perché nei numeri che ho raccontato prima non è giusto e sarebbe ingeneroso raccontarlo così.